Si apre in maniera tragica la settimana sul fronte del Covid. Il report giornaliero dell'ASREM riporta infatti il decesso di quattro pazienti. Si tratta di una donna di 99 anni di gulionesi, di un 93 anni di iserni, una donna di 90 anni di pietracupa ricoverati malattie infettive del Cardarelli e di una 95 anni di Campobasso che era invece nel reparto anziano fragile. Oltre al numero delle vittime sale anche quello dei ricoveri, quattro, tutti infettivi, mentre c'è il trasferimento di due pazienti da questo reparto a quello di terapia intensiva. C'è un dimesso ma anche 683 guariti. I nuovi positivi sui 1.287 tamponi refertati sono 340 con il tasso di positività che schizza al 26,4%. È sempre Campobasso, il comune più colpito con 69 nuovi contagiati. Seguono Termoli con 44, Iserni e San Martino in Pensilis con 22, 16 a Larino, 15 a Campomarino, numeri inferiori negli altri centri interessati dal virus. Gli attualmente positivi in Molise sono 8.595, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 47. Le vittime dall'inizio della pandemia salgono a 546.